Ma bentornati, devastati, eccoci qua, finalmente è arrivato lui, il più grande, con la ruota più grande, il più veloce, la bestia per le bestie, eccolo qui ragazzi, il Monster Pro! Quindi, sperando che non avete fatti bravi dall'ultima volta che ci siamo visti, vi lascio con la sigla! Ma che bello, rivedervi amici devastati, che è passato così tanto tempo, che mi mancavate tantissimo ragazzi! Cos'è, cos'è, cos'è? La maglietta? Piace la maglietta? Maglietta da Vastail! E l'ho fatta per festeggiare i quasi mille iscritti, perché manca poco ragazzi! Comunque la maglietta è molto carina, guardate davanti, modello Davastail, davanti e Davastail dietro! E io direi, brindiamo al Begode Monster Pro, che è il primo in Italia e quindi festeggiamo! Ma lasciate che me ne parli un pochino! Abbiamo un monoruota con una gomma da 24 pollici, ragazzi, 24 pollici! La prima cosa che salta all'occhio sicuramente sono le dimensioni, perché questo affare è veramente enorme! Ragazzi, e pesa la bellezza di 41,5 kg! 41,5 kg di monoruota ragazzi! Un pacco batteria che non ha una fine 3600 Wh! E non solo! Abbiamo di nuovo un motore hollow, motore cavo! Speriamo che questa volta l'abbiano fatto un po' meglio degli ultimi che ho avuto tra le mani! Hai visto mai che sono stato sfortunato? Io comunque ragazzi non ce l'ho con Begode, ma mi pare che lo sappiate bene, io giro con un Begode! Invece il Monster Pro, che speriamo che mi faccia 100, 200, 300 km per quel poco che lo potrò tenere, Oltre ad avere una batteria da 3600 Wh, ha un bel motore hollow da 3500 Wh, signori, è una potenza smisurata! Se vogliamo parlare dell'estetica, ahimè, abbiamo un altro M Super Pro estrogenato, ingrandito, inguffato E con una maniglia incastrata un po' a cazzo, anche stavolta, come nell'ex! E' nuova e già non esce, ne esce solo metà, la seconda metà bisogna tirarla come non so che cosa Come al solito, alla Begode si fanno le cose in maniera un po' approssimativa E tra poco non preoccupatevi perché andiamo a fare un bel giro, proviamo subito insieme Vediamo le prime sensazioni a caldo! Sotto questo meraviglioso tappino abbiamo due porte di ricarica Per caricarlo in metà del tempo, se avete due caricabatterie, come me per esempio E come al solito abbiamo anche una porta USB per caricare il nostro telefono o quant'altro Abbiamo un bel faro, bello luminoso davanti Il solito settaggio Begode, quindi con un clic accendi la luce Il secondo clic la fai lampeggiare Il terzo clic cambi il disegno dei LED Anche su questo Monster, come sul XN, gli hanno messo un piccolo display sul quale potete tenere d'occhio il voltaggio del vostro monoruota Sinceramente avrei preferito un contachilometri o un indicatore della batteria Ecco, su questo Monster Pro sono riusciti anche a mettergli degli speaker Come tutti i Begode possiamo togliergli tutti gli allarmi ma rimarrà quello dell'80% dell'uso del motore In pratica comunque un allarme vi rimarrà sempre di 5 bip E quello ragazzi se avete un Begode non superatelo mai, mai, mai Come al solito anche questo Begode mi arriva senza parafango e con dei mini pad pressoché inutili Infatti presto li mo... sì, sono messi al contrario Vabbè, abbiamo sbagliato, non vi preoccupate, li giriamo presto Te sembra un problema così grande? Bene ragazzi, più o meno vi ho detto tutto quello che c'era da sapere Il resto ve lo dico per strada perché non vedo l'ora di andare a farci un bel giro insieme Che ne dite? Pronti ragazzi? Andiamo! Bene ragazzi, i primi metri con il Begode Monster Pro Ok Non male, eh? Stabilissimo ragazzi, stabilissimo Dritto che va come un treno Ecco, prime sensazioni ragazzi, il peso Il peso si sente subito, ma che devo dirti? Pesa come un quintale, come un cinghiale E comunque servono assolutamente dei power pad Power pad Curvare Curva bene È pesante ragazzi, è pesante Oh mannaggia, oggi c'è tanto vento Secondo me non sentite un manile tra il vento che c'è Però bello, è molto stabile, va molto dritto, mi piace molto ragazzi Prima sensazione, niente male, niente male, niente male È un po' problematico partire Poi una volta che parti però vai come un treno È partire un po' pesante Eh ragazzi, guidarlo in strada è un piacere Fare zigo zago sulle ciclabili un po' meno Strano, eh? Oggi, stasera proviamo lo FROAD Oh per carità, ma abbandoniamo le ciclabili Prendiamo una strada, questo qua è un motorino ragazzi Non c'è niente da fare Qua, uh mamma mia, che goduria No vabbè Devo dargli una Devo dargli una sistemata, come tutti i begode Arrivano un po' spogli Bisogna dargli qualche Qualche aggiustatina Qualche migliorino, bisogna fargli Sicuramente power pad subito Per aiutare a frenare, aiutare a accelerare Se no questo non si è moda Guarda, guarda C'è la faccia del diesel, Dio Cazzo, se mi sbilancio troppo in avanti Vado con la faccia per terra, Dio Sì, bella, con una grande ma meglio gli ammortizzatori Sulle stradine di merda Sento il feeling che aumenta ogni minuto che passa Questa settimana Anzi, per due settimane userò solo il monster E ragazzi Figo Nooo Madonna, questo qua mi ha sfaltato, guarda Avete visto? Ha 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 Mo' vedete la maniglia che merda Non devo dirlo L'ho detto Attento eh Allora, intanto Si prende da qua Ma io Quindi dovrei prenderla con la Sinistra Aiuto, mi fanno passare Oh grazie Molto gentile Come vedete Come vedete Ecco 300 kg di monoruota Mi tende a cadere da tutte le parti Sì Forch Ma la maniglia non va dentro Guarda, tutto molto gotway Tutto molto begode Tutto molto approssimativo Beh ragazzi Come vedete Ho messo i Power Pad Dalla Style Anche sul Monsterone Pro E adesso un'altra cosa eh Fa un po' meglio devo dire E un po' più gestibile Vedete Non sono perfetti Perché via Li abbiamo un po' adattati Però meglio di niente Ma vediamo come se la cava In una salita un po' estrema Questa è molto ripida Oissa Eh voglia a spingere Ma lui va eh Maddosca è un toro ragazzi Questa fare qua è un toro È un po' difficile spingere Così in salita però Uh purca puttana Uh purca Eh 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 Adesso c'è il momento che È sempre odiato dai possessori Del Monster Pro Gli scalini Ma intanto c'è il tasto qua sopra Di fianco al tasto di accensione Ci ha messo un tasto Per il blocco motore Quindi blocchiamo il motore E vai Wow Wow E dai Solo 41 kg Ragazzi Lasciatemi ringraziare Luigi di Overwheel Anche stavolta Per avermi concesso Questo magnifico Monster Pro Per provarle Per presentarvelo E vi ricordo Che se comprate sul sito Overwheel.it Col codice DAVA5 Avrete lo sconto del 5% Quindi ragazzi Sia correte numerosi Bella Luigi Grazie caro Sei sempre numero uno Ecco ragazzi Una cosa strana da notare Su questa monoruota È la posizione delle gambe Che tocca tenere Oh Perché Vedete Essendo che È molto largo È alto Tocca stare un po' con le gambe Un po' così Non è comodissimo Devo ammettere Ma forse ci si può fare l'abitudine Comunque Se la Gotwe Invece di fare tutti i tani con uguali Pensasse a modellarli un po' Potrebbe tranquillamente Fargli una piccola smusso qua Bella raga Siamo giunti Alla rubrica Zero ma ammazzo Vediamo come va a finire il devastato O si ammazza O fa Veloce Pronti? Vediamo Adesso in avanti Adesso dietro Frenata Wobble Dai Wobble Ok Secondo tentativo Di Zero ma ammazzo Col Eukward Andiamo Pronti? Via 50 Oddio Troppo vento Ma come tieni i 60 però Se non ci fosse il vento ragazzi I 60 li fate in scioltezza In scioltezza Mamma mia ragazzi Ma può fare di più eh Cazzo se può fare di più C'è ancora uno Minca però è una bomba ragazzi I 60 ci arrivo in un attimo Pronti? Via E anche V basti Dio E anche 坐 230 Pronti? Poi Chi Ave ragazzi che sborata che goduria che roba ma ancora un piccolo appunto sulla gomma questa gomma è molto strana perché c'è un leggero effetto giro ma soprattutto questo si verifica ad alte velocità quindi quando acceleriamo sopra i 50 e 60 all'ora non si riesce a far girare è difficile da far piegare bisogna piegare modi valentino rossi ricordate il valentino bene ragazzi anche per oggi siamo giunti alla fine del video mi raccomando se non l'avete ancora fatto lasciatemi immediatamente un bel like e dovete anche registrarvi al canale se volete vedere tutte le novità che arriveranno al davastato quindi fatelo subito e attivate la campanella ringrazio ancora luigi per avermi lasciato provare questo spettacolo di monster pro ci vediamo al prossimo video nel quale vi parlerò un po meglio di questo mezzo dopo averlo provato il giusto perché per adesso siamo a 20 chilometri un po pochino per dare un'opinione ma sappiate che mi piace ragazzi questo mi piace e quindi amici da bastanti continuate a non fare i travi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao